Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione e oggi risponderò ad una signora che mi chiedeva la differenza tra ipnosi, dicesse con la V maiuscola vera e professionale e autoipnosi, dicesse vera e professionale. Qual è la differenza, mi ha detto dottore? Perché io vorrei delle sessioni dal vivo oppure online con qualcuno perché mi trovo a Parigi, bla 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 ebbene io a questa signora gli ho risposto che la differenza è enorme, che ne dica qualche guru anche del mondo dell'ipnosi per me naturalmente con il metodo giusto e nel mio caso è il mio metodo dicesse di ipnosi vera e professionale per me l'autoipnosi è più potente dell'ipnosi, etero indotta da un professionista dell'ipnosi è logico che se uno non conosce il sistema, il metodo giusto come il metodo dicesse sarà difficile che ciò si avveri perché anche una mia collega professionista dell'ipnosi di Milano mi ha detto dottore ma io quando mi autoipnotizzo non ho gli stessi effetti di quando mi ipnotizzano eppure è una signora, una professionista molto seria che utilizza l'ipnosi per se stessa e per i suoi clienti, pazienti, eccetera e praticamente perché dice queste cose? Perché non conosce il vero metodo intriso di un antico sapere che è il mio metodo per ipnotizzarsi da sola, perché se tu non sai come fare perché gli altri metodi di discipline alternative non te lo insegnano come fai a farti ipnotizzare da sola, da solo e avere dieci volte gli effetti superiori all'ipnosi che gli altri ti somministrano o che ti guidano a far sì che tu risvegli le tue risorse interiore per interiori e subconsce perché ricordati che l'ipnologo, il professionista dell'ipnosi vera e professionale non ti cura, non ti fa terapia, non fa diagnosi, non ti sommistra a farmaci, nulla di nulla di nulla il vero ipnologo, il vero ipnologo, il professionista dell'ipnosi vera e professionale guida il tuo subcosciente, la tua mente profonda a fare il miracolo della sua stessa mente per cui il professionista, l'ipnologo dell'ipnosi vera e professionale, non ipnosi conformista e commerciale o ipnosi fuffo da spettacolo o da striscia alla notizia, ricordati è diverso categoricamente dal medico, dallo psichiatra, dallo psicoterapeuta, dallo psicologo di turno italiano, francese, americano di Los Angeles e quant'altro perché utilizza strumenti e tecniche diversi poi che ci sia anche il fatto che un medico, uno psicologo, uno psicoterapeuta quando utilizzi l'ipnosi ci sta, però non va confusa l'ipnosi con altre tecniche o terapie o diagnosi non ha nulla a che vedere, è importante questa cosa, questa differenza è enorme, è enorme va bene per cui, ritornando a noi rispondendo a questa signora il mio metodo, il metodo di CS, di autoipnosi, di CS vera e professionale è molto potente trattasi di audio mp3 di CS, di autoipnosi vera e professionale al cubo professionali, altamente professionale, non quello che si trova in giro gratis, su youtube, di meditazione, di ipnosi, di pnl, di autoipnosi oppure quelli che si vendono a 10, 20, 30, 50 euro a pacchetto ok? l'associazione ipnologia sociale di Los Angeles da quanto so io vende tramite le varie concessionarie in tutto il mondo ogni audio mp3 di CS, di autoipnosi vera e professionale sui 100 euro senza ma e senza se per cui non sono per tutti ragazzi poi se uno non vuole spendere soldi può iniziare anche da quello che trovi in giro gratis o ha pochi soldi ci mancherebbe altro ok? però ricordati, in un modo o nell'altro inizia, inizia puoi anche iniziare da solo e da solo senza spendere una lira con la famosa frase ogni giorno, da ogni punto di vista, miglioro sempre di più non sindacare, non entrare nel merito del significato di questa frase su gestione molto potente tu ripetitela all'ennesima potenza e poi giudica quello che senti gli effetti come hanno fatto tante persone consigliate da me che non avevano soldi e non volevano spendere soldi poi dopo magari passi a qualcosa di più soft e poi alla fine, se vuoi, se lo vuoi passi al sottoscritto ok? mentre l'ipnosi d'ICS si differenzia dall'autoipnosi perché tu acceleri il tempo per ottenere la tua soluzione quella è l'unica cosa tra virgolette cioè riesci a mirare meglio il problema ma se tu genericamente dai delle suggestioni con l'autoipnosi da sola oppure date da un altro tipo mi sento bene mi sento forte mi sento una super memoria eccetera eccetera la tua voce la tua il tuo modo di dire a te le suggestioni ricordati sono mille volte più potenti delle suggestioni di un'altra persona naturalmente con il metodo giusto e io modestamente ho il metodo di ICS di autoipnosi vera e professionale che utilizzo da più di 10 anni sul sottoscritto su centinaia e centinaia di persone in Italia e all'estero compreso Los Angeles per cui scrivimi scrivimi e ti risponderò gratis ok poi se vuoi provare un supporto del sottoscritto dell'associazione Ipronici Associati scrivimi e ti dirò in base a quello che cerchi cosa ti serve però ricordati qui non sto non sono un ciarlatano sono una persona molto accreditata ragazzi e nell'associazione Ipronici Associati esistono figure come medici psicologi psicoterapeuti di caratura internazionale per cui stiamo parlando di cose altamente professionali che non trovi in giro certamente non sono reclamizzate come altri come lo stesso Milton Erikson Dave Hellman Brian Weiss attenzione bravissimi isnoterapeuti i professionisti dell'ipnosi eccetera eccetera nessuno dice il contrario ma bisogna ogni tanto uscire dal gregge andare alla mamma delle mamme l'ipnosi della dottoressa Rina Brunini del professore Garai i miei maestri i miei mentori i miei associati dell'associazione Ipronici Associati di Los Angeles sono il non plus ultra io le ho passate tutte sono partito dalla PNL pensiero positivo new age ipnosi conformista e commerciale Milton Erikson dove so tutto di più ho iniziato da autodidatta tantissimi anni fa e poi sono arrivato dieci anni fa nel 2008-2010 all'ipnosi non plus ultra della dottoressa Rina Brunini del professore Garai molto conosciuto in America Latina all'Osangeles e anche a Hollywood tra le star hollywoodiane per cui fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis gratis compatibilmente mi impegno i miei tempi perché sono spesso all'estero non ti curare di chi dice bla 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 tutte sciocchezze io ti dimostrerò ad una ad una le cose che i tuoi dubbi le tue perplessità le tue paure eccetera eccetera se tu mi poni delle domande gratis io ti risponderò e vedrai ad una ad una sia dal punto di vista legale dal punto di vista della salute del benessere degli effetti collaterali del risveglio del sonno eccetera eccetera che cosa ho da dire rispetto agli altri anche se sei un professionista dell'ipnosi e pensi di sapere tutto bene scrivimi questo metodo non lo conosci sicuramente perché non è stato e non è pubblicizzato in Occidente fammi tutte le domande del caso vista la mia fanpage su facebook i prosi avuti prosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere i prosi soluzione dicessere il dottor claudio saracino e facer condividi con amici e parenti per chi gli puoi dare veramente quella mano quell'aiuto quel quid quella molla che gli cambia la vita come è successo al sottoscritto nel 2008 e poi visita anche i profili instagram e twitter benessere i prosi soluzione dicessere del dottor claudio saracino e se ti trovi anche nei paesi francofoni come il canada la francia eccetera eccetera sto iniziando avevo già iniziato ma sto continuando a produrre del materiale video anche in lingua francese ok per cui se hai un amico parente francese canadese oppure che parla la lingua francese come molti paesi africani eccetera eccetera o l'indocina stessa bene condividi condividi e condividi un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e alla prossima